Dunque abbiamo un esercizio in cui c'è una batteria da 30 ampere ora e ci viene chiesto di determinare qual è la quantità di carica presente nella batteria quando questa batteria sarà completamente carica. Ora il termine carica e carica viene usato per due concetti differenti, però penso sia abbastanza chiaro la differenza tra le due espressioni. Allora che cosa vuol dire che questa batteria è una batteria da 30 ampere ora? E vuol dire che questa batteria riesce ad immagazzinare una quantità di carica pari a quella che arriverebbe all'interno di questa batteria se per un'ora pompassimo una corrente da 30 ampere. Bene, quindi nota la corrente I e il tempo T, noi sappiamo che possiamo calcolare la quantità di carica Q. La quantità di carica Q sarà espressa in Coulomb e dobbiamo prestare attenzione al fatto che la corrente I dovrà essere espressa in ampere, va bene? E il tempo T dovrà essere espressa in secondi. Ora sappiamo che la nostra corrente I è già in ampere, quindi la possiamo utilizzare già il valore che ci ha fornito l'esercizio, 30 ampere, mentre l'ora la dobbiamo convertire in secondi. E' facile ricordare che un'ora è uguale a 3600 secondi e quindi non resta altro che fare questo semplice calcolo. Andiamo a prendere la calcolatrice e calcoliamo 30 ampere per 3600 secondi viene fuori 108.000. La quantità di carica accumulata all'interno di questo accumulatore è pari a 108.000 Coulomb. Con questo abbiamo risposto all'esercizio. Grazie per l'attenzione e alla prossima!